Belen Rodriguez, siparietto con De Martino a Verissimo, la gaffe della madre Incrocio televisivo tra Belen Rodriguez e Cancelletto Stefano De Martino nel corso della trasmissione Cancelletto Verissimo. Il ballerino era in collegamento dall'Honduras per lo spazio dedicato all'Isola dei Famosi quando Silvia Toffanin l'ha invitato a presentare la prossima ospite che conosce ben ed è in sala trucco. Nell'attesa l'inviato del reality show ha parlato della Settimana Santa in Honduras. Ma ti ha fatto sempre aspettare tanto. De Martino ha risposto affermativamente prima di fare una presentazione internazionale per un'Argentina diventata ormai italiana, Maria Cancelletto Belen Rodriguez. Una volta in studio il ballerino ha scherzosamente chiesto all'ex moglie se l'aveva presentata bene, ho detto anche il nome. Belen ha apprezzato e Silvia Toffanin ha congedato De Martino. In Honduras e Mattina, lo rimandiamo a dormire. . Subito dopo la conduttrice ha chiesto alla sudamericana se stava attraversando un periodo felice. . Ci sono stati pochi momenti in cui sono stata poco felice. . Credo che per nessuno le cose sono scontate. Belen ha parlato del rapporto con la sua famiglia ripartendo al suo legame con la nonna. . Io non sono una persona che si commuove facilmente. . A questo punto la conduttrice ha annunciato la presenza dei fratelli in studio. . Cecilia è sempre più bella. . . Geremias ha immediatamente aggiunto che è tutto merito dell'amore. . L'esordio con Fabrizio Frizzi, era splendido la sciogirla parlato dei suoi primi mesi in Italia e del difficile distacco dalla famiglia. . Ceco ha aggiunto che quando è sbarcata la prima volta in Italia ha compreso che la sorella ce l'aveva fatta, aveva appena fatto l'isola dei famosi ed appena sono arrivata mi hanno chiesto un autografo. . La modella originaria di Buenos Aires ha ricordato Fabrizio Frizzi con il quale ha iniziato la carriera televisiva con un programma Rai. . . Quando ho iniziato con Fabrizio ancora non parlavo italiano e mi ha aiutato tanto. . Era splendido, quando mi sveglio e vedo queste notizie che mi lasciano un vuoto assurdo. . Ti rendi conto che un giorno ci siamo e l'altro non si sa. . . Dobbiamo spendere il tempo per cose belle. Belen ha spiegato che il piccolo Santiago avrà due feste di compleanno visto che il giorno della ricorrenza Stefano Dei Martino sarà ancora in Honduras. . . Lui è di un'intelligenza superiore. . . E in arrivo la cittadinanza italiana l'Argentina ha annunciato che tra pochi giorni diventerà italiana a tutti gli effetti. . . Dopo 12 anni mi arriva la cittadinanza. . . La 33enne ha speso belle parole anche per Ignazio Moser, e un bravo ragazzo, è una bella coppia. . . Successivamente è entrata in studio anche mamma Veronica che si è emozionata nel rivedere la clip della sua vita prima di fare una piccola gaffe rimarcata da Belen. . . . . . . . . .